Adesso invece la rassegna, che è la terza rassegna interprovinciale, noi l'abbiamo chiamata fare teatro, tra parentesi, dialettale, che ha detto altre volte, non esiste, esistono forme di teatro, in questo caso abbiamo scelto quelle dialettali, ma il teatro resta sempre teatro, quindi è importante, non è una parentesi buttata lì a caso, il teatro è il teatro. E in un quarto d'ora, naturalmente il quarto d'ora significa dare il meglio di sé in questa parte e soprattutto cercare di accalappiare, tra virgolette, il voto popolare, perché il riconoscimento verrà dato direttamente da voi. Maria sta distribuendo le schede, se qualcuno non avesse ancora, vedo che appunto, e quindi il sì volontà soltanto una compagnia. Questo per aiutare anche chi fa lo scoglio. Inizio dando un ordine diverso da quello che voi trovate nella schede perché Auro Frangioni di Rezio Emilia ha chiesto di poter essere posposto, di essere messo alla fine. Quindi avremo prima quelli delle Roncole 2, di San Giacomo Aloncole e di Mirandola, vincitori dell'edizione precedente, poi da Budrio di Bologna, Tiziano Casella, Luca Capitani e Cristian Paolini, poi Luciano Manini, vincitore di due edizioni fa, poi Bricioli di Teatro di Ferrara, Teatro dei Stanchi di Ferrara e Auro Frangioni di Reggio Emilia. Questo è un po' il cast, a mio avviso ricchissimo e anche rispondente da un punto di vista territoriale a varie modalità di fare, di sentire e di proporre teatro. Ecco, come al solito i pro e i compro in questo momento. I pro sono quelli dell'impatto diretto, della direzza, eccetera, che sono importanti. Il contro è che si fa teatro in uno spazio che non è proprio eccessivamente teatrale. Voi immaginate allora di avere il viaggio a prendo e partiamo in questa maniera. Questo è il contro in senso buono. Poi naturalmente, come sempre succede, poi lo dico io che a teatro non sono qui. Il grande attore, il bravo attore è negli spazi difficili, insomma, che non si trova. Perfetto. Io allora chiedo solo una cosa di, se avete ancora qualche scheda legata all'oggetto misterioso, se magari proprio un minuto prima ce la consegnate e poi dopodiché passeremo alla fine del nostro incontro alla votazione come giuria popolare del vincitore per disegnare il vincitore di fare teatro dialettale in un quarto. Io termino e passo la scena a quelli delle rompole due di San Zacco Morano. applausi... 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 una piccola sala parcheggiata lì ha detto porca miseria vuote vedere che è già arrivata meno male ma speriamo che sia persa oh scusambo migliorito tira da scuola modo generale da scuola ad me svolgera la mamma sei la mamma in culo si era messa in la testa per venire via con me la venire che? per controllare una dislessa stamattina 6 ore la salvata già va stila di nuovo pronta a partire a 10 ore lì era già insieme alla macchina sui cranini l'acqua m'aspettava mi sa che sei ho messo in fine ore e mese per convincere l'andarmatura una bottiglia d'acqua pronti e intanto lì l'è andata a somma in tela che sono scappato in fondo l'ho saputo bene insomma come sei lei è una brava d'un letto lei è un po' invadente era patella ma buona e cosa mi fai bene? lei è la suocera e al mio paese al pilastrè di diesel che dal suocere gira una per campanella fin da quando si ramurosa mi era Olga perciò da scuola 40 anni fa tutto il volto che andava in casa lì era arrivata e la parcheggiava il suo culon sul sofà in mezzo a mia Olga l'Olga la stuiva spustata mi rimaniva lì con lì e si cominciava l'interrogatorio allora mentino come andegna e la mepotina fa l'amore oh ma quando è che mi ha sposato mi ha invaduto l'ora invaduto l'ora che andava a far parte della famiglia ma mi ha fatto vedere poi l'amore ma come sei morto? ma stai bene? ma che famiglia manià? senti questi tortelli fritti? aveva fatto la mepotina con i sommandini oh venga per vantare ora ma la mepotina la mia propria aiuta su bene guarda bella, brava e buona propria natunina della famiglia guarda eh 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 a proposito della famiglia adesso che siamo a sposar tutto il mengio è l'obbligo di andare a mangiare da canso posso mica dir che no? Vuol dare un dispiacere a la mamma e se tu tol mengi lasagna al forno un piatta triglicerico di grosso nel nord che guardano con diocchi grosso ai 5 per dire st'attento a toccare se ti inciudano e con un sutta il mengio che ti ingrassò con l'odore è vero che agli ammoni il sentito maglietta ricavi cosa fa per ci vanno in la salina al piano ridare un dispiacere alla mamma a seconda tolita del pui si signore tutta il menghi pui al cassatore e poi al pavro chi va a fare la pancia per tutta la spana fino alla penna da qua quanta storia da scrivere ma cosa fa? agire chi viene indigesti e lasciarmi dal piano in mania minga vuol dare un dispiacere alla mamma e così so anche al pui fa torta che quanti ho cominciato a dare amorosa sire cinquanta cinchilo adesso guardiamo qui il profilo ha sempre un chi gugetto che si fa la festa qui sotto a nadal ma io lo posi per a nadal minga fare un pensare a nadal perchè andò via tutta la poesia guarda tutti gli anni per nadal le quaranta anche le socie nella bregata un mèo madlana fatta l'uncinetta i fer a righi tutti colorati ma minga perchè andò via tutta la lana colorella che sta per lì insieme nooo lei lo fa con la lana che fa i cintrini scalfarò e la pedanina per la gatta con la lana che penso io non fanno i regali dell'alto mi sono minggo un difficile perchè i quelli nostri però stanno fanno i regali fa molte gente e soprattutto cambiano no signore le quaranta anni che io l'ho regalato stessi ma io neanche manchi lunghi e neanche manchi curvi a seconda della lana che avevano sempre ma cosa fa non mi ti venga ha detto che mi era un comò pen ridà un dispiacere a la mamma al nostro a proposito del piacere a mi fa saber se è messo un altro che qualcuno che stenta a dir no la sua c'era neanche un piacere e mia sono appellata a sent bovi fin di colt al nostro allora aspettate a me fa l'amcamale mi dice mentino adesso andiamo a passare la vista del politcini che frate mi ha portato pronti a me dò che ne ha l'appuntamento per due ore o due mesdine mi ha detto del pilastrè ma no la felicità ora sa mai che capita quel don della strada assi uri alla mattina sono in mesavara con la mia panda tirata a lucido lì ho legato sulle camis al ciclo ma aspetta con il mare la spurtina plastica con quelli grossi tipo famiglia cooperativa mi ha detto visto l'incurinatura mi ha detto è appartemento a insegnare a arrivare a Sant'Agostetta a tirare fuori il rosario e la cacca del granello mi sono un gran però se sono funzionato dopo lì sarebbe stagito e straordinario troppo comodo mi ha detto mi ha detto ave maria ave maria quando io sbagliare a mettere il rosario ma lei ha deciso di guardare la strada per fare un'altra riga d'ora mentino andate anche nel schermo ma dai mentino su accelera un pochino ma dai cambia la marcia ma sorpassa quel lì ma state attenti alla curva ma cosa fate i bambini mi avevo tanta pazienza ma era 6 mesi alla mattina e sgardivano ormai non c'era neanche un cagno in giro seguendo un mese mentre neve c'era la strada a giù che per un attimo avevo pensato avrì lo spurtello e buttarlo dal fosso e scappare lì e invece avevo ormai la banda è partita con un rugito che sembrava una Ferrari e la mia socia aveva vintata piccola 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 e l'ha sprofondata in dos carini da banda che sembrava vintare gelatina a un certo punto che la muccia gelatina ha vissut una buslina mentino a un tempo minna tutta questa pressa e bocchini però finalmente arrivem davanti al policlinic ha fatto per parcheggiare la macchina lì non fanno verso in l'oreccia e l'hanno vista con nessuna intenzione a fare tutta la strada lì a via specialmente in non so condizioni da una piccola indagine è salta fuori qui la strada dalla parrucchiera al giorno prima per l'occasione e l'ha dita paura che la guasse e il freddo della mattina ha spesso tutta l'imparcadura perciò mi volevo andare dentro mi guarda la muccia e ora non c'è a spiegare a capire dopo un bel po' che giriamo là per dentro in dei piazza in mezzo a tutti i cartelli che aveva stranato la pretenda ha messo il nome del reparto dovevano andare per la visita gastroenterologia già il nome non prometto niente è vero sono fiducioso sono comunque alle sette ore la mattina è freddo e non c'è ancora niente ma vive in giro siamo già davanti al reparto che hanno aspettato due ore o due mesi per la visita e allora mia suocera cosa fa? la tira fuori la spurtina plastica? la tira fuori un pezzo che fai la fiora e blu l'entend bene molto insieme al cofano della mia panna la tira fuori un termos a quadratone e marron alla lotteria del pilastrell alla lotteria beneficenza che ha fatto il suo riparlasino pilastrell e questi sono sicuri perché gli ricordano il biglietto con il numero 3 che ha il numero 1 è una macchina che si permette dentro i pesi e il numero 1 è una padella completa con confessioni di fagioli borlotti 26 confessioni da 500 grammi di rispita perciò sono sicuri che avevo un bucino di latte e caffè dentro in una tappa di plastica del termos con l'altra mano che ne tuzo un pezzo del paletone vansà di natal e portà per l'ocasione la galtocha dentro la mas lunga chi fa'm? l'istinta em giva a xaparla per alcol e fugarla la sigla troba el sigla al pronzocurs i la leva em suda a salvar e allora com na calma na calma che soñan che mi indolece al telefono la sigaretta le un di poc piacere che non non si può ancora concedere e la prima della mattina portava un savor tutto particolare quanto si vien ad averla desiderata tutta la notte per la donna per fare un passo in pista la sigaretta a dare una bella tirata e io parla ma cosa fè fumiamo buttare la città e andare per le tonte e la gente che si la mascarbista la bocca la sigaretta stanchando mi è con una sigaretta e ti dirà per cascire la tante e se sta lì per ripartirare una sarraca una querica la maiuscola ma chiusa a rire ridare un dispiacere alla mamma mi è uno chiudo a scospa e nascendo Ma che è che stai sentita? Scusate! Questa è la mia suocera! Possi essere contento? No, adesso non ci sono! Aiuta!